La Lega ha attraversato dei momenti sicuramente non simpatici, però noi non dobbiamo dimenticare che la Lega esiste per dare delle risposte concrete alle esigenze del Paese. Ci sono molti che chiedono la sua tendita. Ci sono tanti amici invece. Ma lei è parte del cerchio magico? Il cerchio magico non esiste, lo ha detto Bossa. Si sente un po' nel mirino? Assolutamente no. E anche dopo Bergamo? No, assolutamente no. Maroni dal palco ha proprio parlato di lei. Ha parlato di un fatto del 1995, credo che sia superato, per me lo è sicuramente, ma sono convinto che lo è anche per lui. Ma si voterà per l'espulsione di Rosimauro? Non so cosa sarà posto in votazione, quindi in base a quello che verrà posto in votazione si vedrà. E se le chiederanno, lei voterà una per l'espulsione di Rosimauro? Sì, andiamo a vedere com'è, ci vediamo tra un'oretta così vi do delle risposte più concrete.